Musica Buonasera da Fidile di Parchelia Sono Cristina Nello, il presidente della Proloco locale di Parchelia e nonché di Fidile perché Fidile è frazione di Parchelia e a tutti gli effetti fa parte della nostra comunità Nel centro di Fidile la Proloco gestisce il centro di urno per i anziani che è del comune, la gestione è nostra ed è un centro molto importante in quanto un punto di ritrovo per gli anziani e per i ragazzi del paese Ieri come Proloco abbiamo rivalutato i giochi tradizionali i giochi che hanno visto molti ragazzi, molti bambini contenti e penso che l'obiettivo era proprio quello là far felici i ragazzi, far giocare i ragazzi e penso che l'obiettivo sia stato raggiunto E proprio di Fidile è il vicepresidente della Proloco, Franco Cuturello che diciamo in questa comunità è lui che gestisce queste attività della comunità sono gestite da Franco Cuturello Il paese è piccolino però è importante, come diceva pure il vice sindaco valutare proprio queste piccole comunità e mantenere forti queste tradizioni tradizioni, le feste, la festa di San Geronimo, la festa di Sant'Andrea a Parghelia perché sono feste antiche, feste che è giusto, è giusto mantenerle La Proloco è proprio questo, la Proloco deve mirare proprio a valorizzare queste manifestazioni a valorizzare appunto le tradizioni locali e questo è l'impegno che io in prima persona ma tutti il direttivo, tutti i soci della Proloco è l'impegno che noi mettiamo e che è a favore di tutta la comunità locale Grazie a tutti